La sequenza iniziale di Gangster Story, con le labbra di Faye Dunaway che prendono vita dalle foto d'epoca americane, porta nel cinema classico la fisicità, l'irrequietudine e la carnalità di un personaggio che nel mito americano ne era privo. Ed è anche la premessa ad un movimento fondamentale per la storia del cinema, la New Hollywood. Benvenuti in Aurora, ovvero le migliori sequenze d'apertura, gli incipit folgoranti e i titoli di testa magistrali di cinema e serie tv. Sui titoli di testa suona una vecchia cantilena e scorrono immagini bianco e nero. Sono foto segnaletiche di banditi degli anni 30, reperti imbalsamati nella luce della grande depressione americana, segni di una realtà ormai storica. Poi, all'improvviso, qualcosa cambia e nel carosello di volti dimenticati appaiono facce che non corrispondono alla storia. Sono quelli dei due attori noti, Warren Beatty e Faye Dunaway. Le lettere bianche dei titoli sbiadiscono, la musica volge al termine, una bocca rosso scarlatto appare in dissolvenza, muove la lingua, si bagna le labbra. Con questo movimento sensuale fatto di puro colore, la realtà fotografica si strappa, il tempo delle immagini bianco e nero si scongela, i corpi riprendono vita e Gangster Story comincia. La vicenda raccontata è oltremodo nota, i fatti esposti da più di 30 anni. È la storia di Bonnie Parker e Clyde Barrow, coppia di rapinatori innamorati resi mitologici dalle stampe prima di morire sotto i colpi della polizia. L'incipit scelto nel 1967 da Arthur Penn però è inatteso, mette in allerta, scuote. Non corrisponde all'inizio di una messa in scena storicamente accurata, preoccupata di mettere in fila fatti ed eventi a posteriori attraverso la preparazione narrativa di una forma cronachistica. Piuttosto equivale al principio di un trauma sensoriale, organizzato per disorientare la postura spettatoriale abituata all'immobilità propria di un certo distacco imparziale. All'ingresso in scena di quella bocca leggermente aperta, o meglio, del volto a cui quella bocca appartiene, le usuali distanze di sicurezza dalla rappresentazione infatti crollano. L'inquadratura insegue gli spostamenti del volto, prova a trovare una misura, non tiene ed è costretta a sciogliersi in movimenti scomposti, a strapparsi anche. Allo stesso modo l'occhio si trova spaesato tra evanescenti volumi di luce senza contorni netti e forme improvvisamente plastiche. Scivola sulla schiena nuda del corpo di Bonnie Parker, Fai Dunaway, che irrequieto e furibondo appare come appena nato. Si perde nelle gradazioni di colore. In questo terremoto percettivo, Bonnie pare di nuovo viva mentre si annoia nel suo appartamento e si guarda in giro, facendo una smorfia, reggerandosi nelle lenzuola, cercando una ragione e generando sbalzi nell'aria. Desiderosa di nuova vita, la sua figura apre lo schermo, sfonda le geometrie delle cornici, evade uno specchio, una ringhiera del letto, le pareti, una finestra e passa attraverso, diventando carne. Una carne del tutto assente nelle fotografie divenute famose nell'iconografia giornalistica, una carne rimossa dall'immaginario collettivo, una carne individuata da Arthur Penn, regista interessato fin dagli esordi a un cinema delle sensazioni, suo il dramma sulla vista Anna dei Miracoli, come l'unico dato assente, l'unico vuoto informativo nelle immagini pienamente esposte di Bonnie and Clyde e quindi l'unico possibile punto di inizio per fare ricominciare la loro storia. Portando a espressioni visive e sensoriale questo rimosso della carne, del corpo, il regista trasmette agli spettatori suoi contemporanei, intanto impegnati a galleggiare nelle immagini televisive ancora scorporate della guerra di Vietnam, il sempre mancato senso complesso, il concetto e il percetto della vicenda vissuta dai corpi dei criminali. Tramite questo senso inventa uno spettatore consapevole della fisica del trauma, molto lontano dal profilo inibito prodotto dal cinema americano classico, disinteressato sotto il comando del codice Hayes alla dimensione più tattile dell'immagine e molto vicino alla coscienza della modernità stilistica europea, quella modernità aperta sette anni prima con Fino all'ultimo respiro da Godard, proprio lui rifiutò guarda caso il progetto di Gangster Story, che Penn ha trafugato e iniettato nella grammatica del genere gangster. Dal programma estetico di questo incipit, fondato sull'innovativa sintesi di iperrealismo figurativo e ottimismo sensoriale, nascerà la New Hollywood.